L'edizione targata 2020 della Coppa Città di San Daniele è una edizione decisamente diversa da quelle che le hanno precedute. È infatti una gara che si corre nel rispetto delle normative anti-Covid e che ovviamente deve fare i conti con le limitazioni delle presenze del pubblico e che quindi ha dovuto anche modificare il proprio tracciato. La giornata si apre con la presenza del campione italiano nonché ultimo vincitore della Coppa Città di San Daniele, il modenese Giovanni Aleotti che dona la maglia tricolore agli organizzatori dell'AUC sandanielesi e poi si abbassa la bandierina e si parte per i 152 km in programma. Una prova come dicevamo rivoluzionata rispetto al passato, infatti si corre sul circuito di 17 km che andrà ripetuto per 8 volte che comprende la salita del Castello d'Arcano e del Muro del Macello Vecchio. E proprio il traguardo è posto sulle difficili rampe di questo ormai famoso muro di San Daniele del Friuli. Quindi non ci sarà il passaggio sulla salita di Muris di Ragogna ma solo una gara in circuito. Un circuito comunque spettacolare come lo vedete dalle nostre immagini e un circuito anche molto selettivo. Con le nostre riprese andiamo al chilometro 30 quando ad evadere dal gruppo è un terzetto molto interessante. Infatti in fuga se ne vanno Martin Nessler del Cycling Team Friuli, Michele Gazzoli e Tommaso Rigatti della Colpac Ballan. Questi tre atleti arrivano a guadagnare un vantaggio massimo di un minuto e mezzo sul gruppo. Un gruppo che comunque tiene sotto controllo l'azione di questo terzetto. Un terzetto decisamente interessante dal momento che al proprio interno figura anche il campione europeo degli Juniors, quel Michele Gazzoli, il Bresciano, capace di ottime prestazioni e sempre tra gli azzurri negli appuntamenti più importanti della stagione. Si corre come dicevamo a San Daniele della Friuli, una cittadina da sempre amica del pedale che il prossimo 20 ottobre ospiterà anche l'arrivo della sedicesima tappa del Giro d'Italia. Una gara, questa dell'Unione Ciclistica San Danieleesi, società fondata nel 1907 che vanta la propria prima edizione addirittura nel 1933. E dunque l'organizzazione curata dal presidente Alfonso Fanzutti e dai suoi collaboratori tra cui Luca Bortoluzzi e Mauro De Monte può contare quest'anno anche sull'appoggio e il patrocinio della provincia di Udine, della città di San Daniele, del comune di Ragonia e del comune di Rive d'Arcano e poi ovviamente sul consueto appoggio e sulla passione della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della comunità collinare della Friuli. Prosegue l'azione dei tre attaccanti ma il gruppo tenta una reazione. A suonare la sveglia sono le maglie della Zalfero Mobile Desiree Fior, dirette nell'occasione da Luciano Rui ed in particolare a porsi all'inseguimento in solitaria dei tre battistrada quando sono già stati percorsi più di 80 chilometri c'è Federico Guzzo, atleta al primo anno nella categoria, aveva già fatto vedere diverse cose interessanti tra gli juniores e qui a San Daniele del Friuli esce allo scoperto per andare a riportarsi tutto solo sui tre battistrada così quando siamo al chilometro 90 andiamo ad avere un quartetto al comando della corsa ma il gruppo ha decisamente ridotto il gap. Infatti è un plotone che si è portato a 40 secondi dai quattro battistrada. Al comando della corsa come detto troviamo Martin Nessler, Michele Gazzoli, Tommaso Rigatti e Federico Guzzo quando al traguardo finale mancano ormai poco più di tre tornate. Una gara dicevamo che si è sempre distinta per un albo d'oro straordinario e se a vincere lo scorso anno era stato Giovanni Aleotti che in questo 2020 si è laureato campione d'Italia l'anno precedente era toccato a Samuele Battistella che aveva conquistato poi lo scorso anno il titolo di campione del mondo. Quando siamo ormai in vista del cartello dei tre giri al termine vedete che una prima parte del gruppo composta da una decina di unità di corridori si riporta sui primi quattro battistrada ma il resto del plotone è lì poco distante lo vedremo in cima al muro del macello vecchio riportarsi proprio sulla scia di questi attaccanti. Una salita che andiamo a vedere con le nostre telecamere che si presenta decisamente arcigna 300 metri con pendenze che sfiorano il 20%. E' questa la novità della Coppa Città di San Daniele 2020 una novità che spezza le gambe ai 106 atleti in gara. Infatti proprio in questa fase quando ormai i giochi si sono riaperti a comporre il gruppo dei migliori quello che avrà la possibilità di giocarsi il successo finale ci sono non più di una cinquantina di atleti. Siamo a fine stagione come da tradizione qui a San Daniele del Friuli ma è un finale di stagione decisamente diverso da quelli delle altre annate infatti si è corso pochissimo, gli atleti hanno ancora bisogno e voglia di mettersi in luce e quindi è sempre una bagarra continua sul circuito di San Daniele. Andiamo ad imboccare ormai con la gara l'ultima scalata alla salita del Castello d'Arcano una salita che non presenta certamente pendenze impossibili ma che combinata con il muro della Macello Vecchio ha decretato la selezione in questa 83esima Coppa Città di San Daniele una prova che vedeva al via tutte le migliori formazioni italiane insieme alle quali c'era anche la nazionale slovena e proprio quando siamo all'ultima scalata del Castello delle Rive d'Arcano se ne va tutto solo Riccardo Lucca il trentino della General Store, recente vincitore della Astico Brenta prova un altro straordinario assolo il gruppo si allunga e lascia fare a un Riccardo Lucca decisamente scatenato che riesce a fare la differenza sulle rampe del Castello d'Arcano vedete Riccardo Lucca pedalare in solitaria quando ormai in vista lo scollinamento alle sue spalle c'è solo un generosissimo Davide Bais un altro degli atleti più in forma del momento ma il portacolori del cycling team Friuli non riuscirà ad agganciare il fuggitivo e quindi disco verde per Riccardo Lucca quando siamo a meno di 10 km dal traguardo il gruppo alle sue spalle è molto allungato tutti gli atleti sono molto affaticati da una giornata che si è corsa con la minaccia del maltempo ma che ha trovato comunque la grazia del sole quindi condizioni ideali per esprimersi in questa corsa con Riccardo Lucca già lanciato verso il traguardo in perfetta solitudine siamo a 2 km dall'arrivo e per Riccardo Lucca ci sono 15 secondi sul gruppo da difendere con i denti strada che scende sino all'imbocco di San Daniele e poi ci sarà però da affrontare la salita del muro del Macello Vecchio questo muro che potrebbe rivelarsi decisivo qualora Riccardo Lucca non avesse le energie necessarie per resistere al ritorno del gruppo ormai in vista il triangolo rosso dell'ultimo chilometro per il portacolori della General Store SGB Fratelli Curia un atleta abituato a questo tipo di cavalcate lo scorso anno aveva vinto anche una tappa al Giro della Veneto proprio andandosene tutto solo nel finale di gara ma vedete che il gruppo ormai è lì è sulle tracce di Riccardo Lucca lo raggiunge e quindi sprint sul muro del Macello Vecchio da giudicarselo a un'altra maglia della General Store si tratta di Daniel Smarzaro seconda posizione per il lo sloveno Tilen Finkst terza piazza per generosissimo Davide Baiss del Saiken Team Friuli seguono Bertone, Della Iseo, Zambelli, Di Benedetto, Gazzoli, Gandin, Baseggio e quindi chiude la top 10 Nicola Asnesi della D'Amico UM Tuls Daniel Smarzaro che è successo qui a San Daniele del Friuli? Sì è un grandissimo successo che arriva dopo due secondi posti oggi ci tenevo anche perché tra poco al compleanno della mia ragazza devo fargli una dedica speciale quest'anno un po' che non è andato bene finalmente è arrivato un gran successo e una grande classica e allora abbiamo capito a chi darà i fiori adesso puoi fare la dedica sì sì la farò alla mia ragazza Valentina che c'è sempre stata in questo momento difficile solo lei sa cosa ho passato perciò sono per lei i fiori sindaco di San Daniele del Friuli Pietro Valent l'arrivo del Giro d'Italia si avvicina sempre di più e oggi la Coppa Città di San Daniele ha regalato una splendida cornice è una bellissima cornice che è il preludio a quello che sarà il 20 di ottobre tappa Udine-San Daniele con un arrivo importante ad Anello con un circuito su comuni della colinare che sono Maiano, Ragonia e San Daniele ci stiamo preparando e avvicinando a passi molto molto veloci la giornata di oggi è stata una sorta di collaudo abbiamo visto tanto pubblico ma molto molto disciplinato lungo il percorso lungo il tratto d'arrivo sicuramente sarà un biglietto importante che ci darà garanzia di avere un grande evento il 20 di ottobre con l'arrivo del Giro d'Italia Mauro De Monte una nuova formula per la 83esima Coppa Città di San Daniele una formula ancora una volta vincente è stato grande spettacolo ma quest'anno ci siamo trovati con il discorso Covid un po' a rimodulare quello che era la nostra classica d'autunno abbiamo puntato sul percorso tradizionale con la salita inedita dove abbiamo pensato anche di apportare l'arrivo perché era comunque un tratto impegnativo del percorso abbiamo aumentato i chilometraggi abbiamo portato la gara a carattere nazionale siamo molto contenti di come ci è riuscita puntiamo anche per il 2021 magari tornando sul tracciato vecchio ma comunque a portare avanti la manifestazione una tradizione quella della Coppa Città di San Daniele che prosegue e che è ricca di tanti nomi interessanti e soprattutto tanti nomi da ringraziare per la buona riuscita dell'edizione 2020 noi siamo probabilmente anche come collocata a fine stagione abbiamo sempre una partecipazione molto qualificata basta leggere i nostri ordini di arrivo di un po' di anni fa e anche gli attuali siamo molto contenti siamo posizionati nel posto giusto sicuramente questo è sprone per andare avanti nelle prossime manifestazioni organizzate dall'Unione Ciclistica di San Daniele grazie grazie grazie